Tra i tanti prodotti collaudati, quello che mi soddisfa in assoluto è il mio casa mia, ma un altro prodotto che trovo fenomenale è il mio bumbum azzurro. Non le dico come si sente il profumo anche dopo aver lavato per ore ed ore. Mi raccomando, provatelo. Ciao! Via! Buongiorno, ci siamo, sono sempre io. Mi chiamavano Dash quando ero piccolo e ancora adesso lo sono, perché penso sempre solo alle polizie. Però, vi volevo dire una cosa. Quando vi andate al bagno e fate i vostri bisogni, si sente sempre quel cattivo odore. Hai voglia a mettere profumini, vicinec, vicici e quant'altro. Ma vi dico una cosa. Usate lo spazzolone, usate lo spazzolone. Vi do un consiglio. Usate sempre un lucio di candigina pura e vi posso garantire che il vostro gabinetto sarà sempre bianco, splendente. L'acqua dentro si potrà bere. Ok? Non usate nient'altro, perché sono tutte cose fasulle. Questa è l'unica cosa che risolve tutti i vostri problemi. Gire, gire, gire. Ah, c'è. Capito? Ah, c'è, c'è, c'è. Arrivederci. Non mi sento bene. Non lo sapete? Sono quasi un mese che sto male. Non si capisce quello che ho. Mi sento moscia, debilitata, il collo, tutte le ghiandole infiammate. E il rio Bubu? Cosa fa il rio Bubu? C'è passato. Ah, però volevo dire prima cosa. Io vi sento così male, ma con due gocce di rio Bubu vi passa tutto. Vedete? Sono la propria vivente. Adesso il colo si gira. Vi dirò di più quando volete far fuori vostro marito. Un po' di Bubu di cibo. Un po' di Bubu delle polpette. È lui. È lui. Bubu.